Bella a tutti ragazzi, vi ho avuto in questo nuovissimo video, oggi siamo qui per farvi vedere una cosa che in molti forse non sapevano E comunque è una dritta da fare per fare un botto di soldi in questo periodo che c'è negli sconti dei doppi soldi e del repi doppi Dunque, allora, cosa dovete fare? Dovete avere innanzitutto gli amici, ovvio, questo è ovvio, oppure trovate persone a casa e le invitate, vabbè, dettagli Io per esempio ho queste persone che hanno i cosi che volano, come si chiamano, le motovolanti hanno E con queste motovolanti, cioè io devo stare solamente, devo girare nella città e loro mi fanno tutto Quindi adesso in questo momento non seguirò la via perché ci sono quelle motovolanti che fanno tutto loro, giusto? Ragazzi, dove sono? Scusatemi, sono rimasti là, c'è solamente uno con la motovolante, ma noi non abbiamo paura, giusto? Noi non abbiamo paura Allora ragazzi, quello che dovete fare ragazzi è farvi omicidio, omicidio 3 Perché l'omicidio 3 vi dà un botto, un botto, un botto di soldi Specialmente se avete una motovolante, se avete quella, avete vinto Perché per questo io non lo sto spammando Sapete che dovete spammare l'omicidio 3 e l'omicidio 2 Vi spammate questi due perché non potete farvi due volte l'omicidio 3 Vi dirà che avete già giocato e dovete aspettare un po' di tempo Per questo vi avviate l'omicidio 2, vi fate l'omicidio 2 Fatto ciò, quindi vi daranno un botto di soldi Andate torno di nuovo nell'omicidio 3 e vi fate l'omicidio 3 In questo modo vi farete pienissimi di soldi Vi metto difficile perché questi qua sono il rango 400 No, sono il rango 200 e 144 È un botto, è un botto ragazzi, lo so Mi sono fatto la kuruma, ci ho spesso 200.000 per farci tutto Ci ho messo in neon a tutto sotto, tutto quanto avanti, dietro e centrale E poi, vabbè, l'ho rinforzato al 40% Caspiterina, vicino Flanders Non mi hanno visto, sono stupidi Sono stupidi, sono stupidi, sì che sono stupidi Aspetta, perfetto Sfruttatelo ora, mi raccomando, che c'è per l'appunto gli doppi sconti E durano fino a giovedì questo qui che deve venire E vi giuro che vi daranno un botto, un botto, un botto di soldi Proprio vi fate pieni fino al midollo spinale Vedete, abbiamo finito la missione, facilissimo, vedi, easy, easy Proprio easy Vedete, 30.000 bot Non so se adesso continuiamo ancora, questo è il terzo turno che ci facciamo Io sto andando così all'infinito Con omicidio 4? Omicidio, oh omicidio 4 Andiamo a farci omicidio 4 Si bom, si bom, si bom, si bom Non è un modo, questo titolo, cioè non so che titolo metterà questo video Perché sinceramente non avrebbe tanto senso Mettere un video, cioè mettere un titolo tipo soldi infiniti Perché sarebbe clickbait Io non voglio fare più titoli clickbait come quelli là Come quello che ho fatto io Vi scuso ancora per il video che in realtà non si poteva fare Visto che l'hanno sfixato Vi scuso che non si può fare Quindi niente, alla fine non l'ho, cioè l'ho cancellato Anche se ho fatto 302, se non mi sbaglio Visualizzazioni Non fa niente Se continuiamo così, cioè divento pieno di soldi 22.000 Vabbè ci sta Questo non mi aspettavo che ci dava tanto Rango 41 Vabbè, io direi che il video può finire qua Ho fatto già abbastanza Spero che questo video vi è piaciuto Bella raga Grazie a tutti